La polizia Se avessi visto che era la polizia, avrei evitato di sparare. È stata prevista una ricompensa di 300.000 yuan per la persona che consentirà la cattura di Zhu Zenong. Questo lago è lungo 10 chilometri. Forse si nasconde in questa zona. È una città dove non c'è legge, senza un'autorità. Tu sei Zhu Zenong, giusto? Che hai detto? Mi mandano da te Ciao e Wawa. Consegnami alla polizia. La ricompensa va a mia moglie. Posso fidarmi, no? C'è tuo marito che ti vuole vedere. Non ci posso andare. La polizia mi tiene sotto controllo. Spero che voglia continuare a collaborare. Mi avete già radunati. Tu vali un sacco di soldi. Solo che prima ti devo ammazzare. Sai troppe cose su di me. Non è vero! Non è vero! Fermalo! Grazie a tutti.